buongiorno a tutti oggi siamo qua pacco dei nebotri e qua siamo qualche laghetto e niente va bene siamo qua nel lago qua a mie spalle qua vado a vedere qua tutto il panorama tutte pietre pietre bello scorimento d'acqua guarda che bello e via zona lingua grossa anzi no veramente non siamo a lingua grossa siamo a parte messina ma scusate eh ho sbagliato qualche cosa vabbè va ecco ammirate tutto questo qua di dietro a me tutto abri pini cezza e qua c'è la strada tutto risaglia tutto vabbè tutto quanto va ok vabbè vi saluto vado solo minchiato va non so che dire ma arrivederci ciao ciao bye bye